ma anche lì la ricetta è un'altra cosa che si può dire anche lì la ricetta è un'altra cosa che si può dire perché se no non venivano bruciate, e qui sopra rimanevano quindi questo processo un po' vedevano ancora oggi ma per l'anima e la maniana che hanno messato i maniani l'operazione, il gizzo, quindi quelle e un'altra questo borgo bellissimo è Casa Tonarone Casa Tonarone cos'è? è un infeggiamento di mezza costa risolente al 500 e che è stato ristrutturato però, insomma, ha un'ambiente che si fa dove c'è stanno qua? e qui non dimostra la differenza di questi terreni anche è che la roba il cattane era un pane di cattane quindi, qua è il cattane quindi il cattane c'era un livello proprio giardino ed era un terreno, volete immaginare quello che lì il cattane c'era un cattane c'era un cattane e lì vede il cattane c'era un cattane guarda quanti buchi che ha anche qui ci sono belli eh guarda questo qui questo è il difetto che è morto però è bellissimo eh adesso lo portiamo a casa ah giusto abbiamo trovato quella tania un cattane grosso così tutto bucato e lì ci stavano dieci San Bartolomeo questo è un esempio di resilienza il cattane il cattane il cattane anche il noce che bello per evitare discussioni allora bisogno